Chiavari inizia in consiglio il percorso del piano urbanistico, questa sera la Giunta presenterà il nuovo progetto che archivia il vecchio piano Levaggi, l'ex sindaco denuncia così decadono i vincoli e si investe sul cemento. La Cisra in campo per salvare l'asilo Marello di Zoagli dalla messa all'asta ha chiesto un incontro col sindaco e la fondazione, il sindacato propone di accettare l'offerta della croce bianca rapallese per ripianare i conti. Far luce sul confine tra evento eccezionale e cedimento di un'opera fondamentale per la sicurezza, l'obiettivo dell'inchiesta aperta dalla procura sul crollo della diga del porto di Rapallo. Papa Francesco ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicata alla preghiera del Padre Nostro, dal Santo Padre un invito a vivere il tempo di avvento come cammino per imparare a pregare. Chiusa l'iscrizione al pellegrinaggio diocesano in terra santa, 60 i partecipanti che trascorreranno le festività natalizie nei luoghi di Gesù, due incontri preparatori in seminario il 10 e 17 dicembre. L'Avo del Tigullo Orientale ha festeggiato 38 anni di attività con un concerto a Chiavari. L'ente cerca volontari giovani e progetta un nuovo servizio da prestare al pronto soccorso. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13 in apertura alla politica amministrativa. A Chiavari infatti entra nel vivo la discussione sul nuovo piano urbanistico comunale. Il progetto, redatto dalla giunta di capo, verrà presentato questa sera in consiglio. L'assemblea si riunirà alle ore 18. La minoranza critica la tempistica e i contenuti del PUC. In particolare l'ex sindaco Levaggi denunce. Così decadono i vincoli e si investe sul cemento. Inizia il percorso sul piano urbanistico comunale di Chiavari. La minoranza è compatta nel denunciare il tempo ristretto, loro concesso per leggere un documento così importante per il futuro della città. L'opposizione fa notare che sono passati 17 mesi da quando la regione aveva approvato con delle osservazioni il progetto della giunta Levaggi. Un progetto che poteva essere recepito o rinviato dall'amministrazione di Capua. Non hanno fatto niente, l'hanno tenuto per 17 mesi in un cassetto, ovviamente magari lavorandoci sopra. E adesso viene presentato quella che è l'idea del PUC da parte della nuova giunta. Il problema fondamentale è che i tempi per comprendere i contenuti del nuovo PUC sono strettissimi. E anche avviare una discussione con la città, coinvolgere i cittadini. Oggi arriviamo, ci presentano un pacchetto a 7-8 giorni dal Consiglio Comunale e poco il tempo anche per far capire alla città che cosa c'è in questo progetto. Anche secondo l'ex sindaco Levaggi, la nuova giunta poteva in questi mesi modificare il progetto del PUC che sostanzialmente era pronto. Per il capogruppo di Noi di Chiavari, l'amministrazione avrebbe ritardato apposta per far cadere i vincoli previsti nel PUC Levaggi. Così, spiega l'ex primo cittadino, in questo periodo di stallo, in attesa del prossimo documento, occorrerà attendere fine 2019, Chiavari potrebbe subire delle trasformazioni preoccupanti. Ritorna in vigore il vecchio piano regolatore, quello di Agostino Segalerba, quello ideato nel secolo scorso, perché il vecchio piano regolatore era del 1997-98 ed è concluso nel 2002. Cosa potrebbe succedere? Potremmo rivederci circa 7.000 metri quadrati, quindi significa 80-90 appartamenti in via Trieste, 3 o 4 ville che erano molto impattanti nella salita per Magena per 20-30 appartamenti, 1.400 metri quadrati di edilizia, un po' residenziale pubblica, un po' privata, però pur sempre deturpante, vicino al castello, sopra quell'area dei parcheggi intitolati Adonando Negri, quindi in quella zona potrebbero venire 20 appartamenti e poi tutta un'altra serie di cose. Salvare l'asilo Merello dalla messa all'asta dell'immobile è l'obiettivo che CIS, l'area metropolitana, cerca di raggiungere per salvaguardare il presidio a beneficio delle famiglie del territorio. Per questo motivo è stato richiesto un incontro col sindaco e la fondazione. L'attuale situazione di stallo infatti rischia di chiudersi in modo drammatico. 8 dipendenti devono ancora ricevere in totale 70.000 euro più 30.000 di contributi non versati. È il primo punto negativo legato alla vicenda dell'asilo Merello di Zoagli, chiuso da giugno di quest'anno. Il secondo riguarda la possibile perdita di un immobile storico. Il nostro ufficio Vertenze qua a Chiaveri è stato costretto a pignorare i beni mobili. Poi altre due lavoratrici che non sono venute attraverso il nostro ufficio hanno pignorato il bene immobile. Quindi in questo momento un edificio di pregio è all'asta. Sul futuro dell'asilo si litigano amministrazione e fondazione Merello. Un'impassa attualmente senza sbocchi con peraltro gravi disagi per le famiglie. Noi abbiamo chiesto un incontro congiunto con il dottor Rocca, il sindaco di Zoagli e la presidente della fondazione, la dottoressa Colli, per vedere se si può evitare la vendita di questo patrimonio immobiliare importante e possibilmente recuperare i soldi. Secondo CISL le strade percorribili sono due. La prima, accettare l'offerta di 130 mila euro avanzata dalla Croce Bianca Rappallese per l'impianto sportivo. Con questo importo si potrebbe da una parte riaprire l'asilo e dall'altra ripianare tutti i debiti che l'asilo ha nei confronti dei dipendenti e dei fornitori. Il sindaco di Zoagli dice che questi soldi sono troppo pochi. Bene, però troviamo un'altra soluzione. Però insomma è chiaro che i dipendenti ai loro crediti devono essere risarciti. La seconda strada, lo scioglimento del CDA della fondazione, che il sindaco avrebbe già potuto attuare per uscire dallo stallo, spiega CISL, qualora avesse ritenuto la gestione incapace di svolgere il proprio lavoro. Anche perché due membri del CDA hanno dato le dimissioni e il sindaco non ha ancora fatto la surroga. È stato un atto di sensibilità umana ed istituzionale la presenza del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi alla celebrazione della patrona dei marinai Santa Barbara a Santa Margherita Ligure. Un modo per esprimere vicinanza e un sentimento di gratitudine al personale della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco che nella notte dell'ammareggiata del 29 ottobre scorso hanno messo in salvo 22 persone nel porto di Rapallo. È stata anche l'occasione per fare impunto sull'inchiesta in corso. Sentiamo. Dove si trova la linea di confine fra un evento di portata eccezionale e la resistenza di un'opera che avrebbe dovuto difendere un porto ed una città. È questo l'interrogativo a cui darà risposta l'inchiesta per crollo colposo e attività colpose che creano pericolo di naufragio aperta dalla procura di Genova a seguito della mareggiata di fine ottobre. Osservata speciale, sebbene il fascicolo riguardi anche Santa Margherita, la diga di Rapallo, oggetto di lavori di rinforzo dopo i danni della mareggiata del 2000. Pur essendosi trattato di un evento di straordinaria ed eccezionale gravità naturale, sicuramente qualche approfondimento e la necessità di accertamenti sul perché in particolare Rapallo abbia ceduto mettendo anche con questo a repentaglio molte vite. Per fortuna nessuno ha avuto dei danni sotto questo profilo particolare. È un'opera che era stata rifatta pochi anni prima e quindi bisogna trovare il limite di equilibrio tra quello che è un evento naturale e una capacità di resistenza che devono comunque avere le infrastrutture fondamentali come quella in questione a Rapallo. I danni sono stati molto ingenti sia a Rapallo che a Santa Margherita, ma i risvolti di maggiore pericolo sono stati quelli causati dal cedimento della diga di Rapallo. Non ci dimentichiamo che a Rapallo, se non ci fossero stati appunto gli uomini, i marinai e anche i vigili del fuoco, che ancora una volta sento di ringraziare dal profondo del cuore, non ci fossero stati quei sette sommozzatori dei vigili del fuoco, sarebbero sicuramente perite tra le acque oltre 20 persone. L'inchiesta è in mano al PM Walter Cotugno. Sono stati nominati i tecnici che stanno svolgendo tutte le verifiche anche con l'acquisizione della documentazione relativa agli ultimi lavori effettuati. È un procedimento in fase di accertamento preliminare, di approfondimento preliminare, il che non vuol dire che poi ci sarà un procedimento penale. È una fase diciamo proprio preliminare, come si dice in termini giudiziali. Ora la pagina ecclesiale. Papa Francesco ha iniziato oggi durante l'udienza generale un nuovo ciclo di catechesi dedicate alla preghiera del Padre Nostro. Lo ha fatto questa mattina nella prima udienza del mese di dicembre di fronte a più di 8.000 pellegrini radunati in aula Paolo VI. La prima riflessione è stata dedicata a Gesù, uomo di preghiera. Il Papa ha descritto come nella vita di Cristo la preghiera sia ciò che governa tutto. Gesù ha detto pregava nei momenti pubblici, ma anche in ruoghi raccolti. Pregava come prega ogni uomo, ma nel suo modo di pregare era chiuso un mistero. Qualcosa che non deve essere sfuggito agli occhi di chi stava con lui, visto che ad un certo punto i discepoli gli chiedono insegnaci a pregare. Di qui l'invito del Papa a rivolgerci a Dio con questa supplica e a vivere questo tempo di avvento proprio come cammino per imparare a pregare. Sentiamo un passaggio della catechesi. Il primo passo per pregare è essere umile. Andare dal Padre e dire, ma Padre, andare dalla Madonna, guardami, sono pecatore, sono debole, sono cattivo. Ognuno sa cosa dirle. Ma sempre si incomincia con l'umiltà. Il Signore ascolta. La preghiera umile è ascoltata dal Signore. Perciò, iniziando questo ciclo di catechesi sulla preghiera di Gesù, la cosa più bella e più giusta che tutti quanti dobbiamo fare è ripetere l'invocazione dei discepoli. Maestro, insegnaci a pregare. Sarà bello, in questo tempo di avvento, ripeterlo. Signore, insegnami a pregare. Tutti possiamo andare un po' oltre e pregare meglio. Ma chiederlo al Signore. Signore, insegnami a pregare. Facciamo questo, in questo tempo di avvento. E Lui sicuramente non lascerà cadere nel vuoto la nostra invocazione. Grazie. Sono 60 i pellegrini della Diocesi in partenza per la Terra Santa nel periodo di Capodanno. Molti quelli rimasti in lista d'attesa, per i quali l'ufficio pellegrinaggi della Diocesi ha già pensato una data a inizio estate in cui tornare sui luoghi della vita di Gesù. Per chi invece è in partenza, il prossimo 26 dicembre, sono stati organizzati due incontri preparatori. Quali sono gli incontri preparatori che state organizzando? Faremo alcuni incontri in preparazione proprio perché è possibile, tornati dalla Terra Santa, rimanere ammariggiati, delusi, confusi. E quindi prepararci significa metterci nella disposizione d'animo di fare proprio un vero incontro con Gesù, un vero incontro con noi stessi. Per cui lunedì 10, alle ore 18 e 15, nei locali del seminario, faremo un primo incontro di preparazione più esterna, quindi il vestiario, la valigia e a dare qualche direttrice fondamentale ai pellegrini. Il 17 invece cureremo l'aspetto più interiore. Con noi ci sarà Don Mario Rolando e con lui cercheremo di fare centro e quindi di occuparci proprio della fisionomia del pellegrino che dia qualità alla nostra vita attraverso questa esperienza. Complessivamente quanti sono i pellegrini che partiranno per la Terra Santa? Fin dall'inizio il numero ci ha sorpreso, era in continua espansione al punto che abbiamo ripetuto, procrastinato le adesioni. Saremo 60, purtroppo ci sono 20 persone che sono costrette a rimanere a casa e questo ci dispiace, però rassicuriamo nel senso che presto, a fine giugno, ci sarà un altro pellegrinaggio di Cesano, proprio in Terra Santa. Qui uniremo anche la Giordania, quindi avremo occasione anche di vedere Petra, Luodirum, Gerasci, il Montenebo e quant'altro. Quanti giorni starete in Terra Santa? Sono 8, in particolare Capodanno saremo a Gerusalemme, ma la cosa più significativa è che per chi ha scelto di venire in Terra Santa ripete la scelta di Dio, di scegliere proprio quei luoghi. Baceremo il luogo della nascita, della Basilica della Natività. Sarà sicuramente un'esperienza diretta, coinvolgente. Inizia oggi la preparazione alla solennità dell'Immacolata a Portofino. Nel pomeriggio alle 16.30 la recita del Rosario Meditato con testi scritti da San Paolo VI. Domani alle 16.30 la messa a Vespertina e venerdì alle 16.30 il canto dei primi Vespri. Sabato giorno della solennità, alle 11.15 la messa solenne, nel pomeriggio alle 17 in Piazzetta l'accensione dell'albero di Natale. In occasione dei 400 anni di fondazione del convento dei frati Cappuccini di Monte Rosso al mare, la festa dell'Immacolata compatrona con San Francesco del convento sarà celebrata secondo l'antica tradizione di salire al convento sia dal paese sia dai monti dopo aver camminato tutta la notte. La statua della Madonna del Santuario di Soviore sarà condotta dalle alture fino a Monte Rosso toccando in via eccezionale dapprima il convento dei Cappuccini, poi le vie del paese in festa per raggiungere la parrocchia di San Giovanni Battista. Le celebrazioni saranno arricchite da un presepe vivente allestito per la prima volta nelle Cinque Terre nel suggestivo borgo antico di Monte Rosso. Oggi inizia il triduo di preparazione nella chiesa dei Cappuccini con il rosario alle 15 e la messa alle 15 e 30. L'associazione volontario ospedalieri Tigulio Orientale ha festeggiato 38 anni di attività con un concerto che si è tenuto all'auditorio San Francesco di Chiavari. È stata l'occasione per fare il punto sull'attività svolta e sui progetti per il futuro. Noi abbiamo questi nostri amici, il trio Vulpani, che ci segue da tanto tempo. È il dodicesimo concerto nostro. Per noi si chiudono i primi 38 anni di servizio attivo negli ospedali Chiavari, Lavagna, Sestre Levante. Quanti volontari ci sono? Guardi, attualmente il numero scilla tra i 250 e i 300 perché ci sono volontari in aspettativa. L'età media nostra sta aumentando. È chiaro che ogni tanto ci siano degli intoppi e abbiamo tanto bisogno di volontari. Lei è da due anni volontaria nel Lavo del territorio. Il concreto che cosa fa? Ma io li sto vicino, li do un po' compagnia. Cerco di farli sorridere anche. E quando vengono coinvolti anche in qualche lavoretto attraverso il fisioterapista o l'animatrice io do a loro una mano, sto a loro vicino cercando di farli fare qualche lavoretto. Tra i volontari sembra che manchino soprattutto i giovani. Bisogna fare un appello. Sì, io penso che andrebbero sensibilizzati tutti i ragazzi diciamo delle scuole superiori che c'è tanto da imparare, c'è tanto da dare, assolutamente. In vista dei 39, dei 40 anni, che progetti ci sono in ballo? C'è un progetto molto importante che è quello del servizio al pronto soccorso. Per questo servizio che richiederà numerosi turni nell'arco della giornata avremo bisogno di tanti volontari e naturalmente avremmo bisogno di tanti giovani. È un appello veramente che faccio ai giovani perché li vedo molto motivati, li vedo molto attivi e pieni di umanità presso le croci possono eventualmente dedicare anche un turno di due ore all'Avo. Per chi desiderasse diventare volontario Avo è possibile rivolgersi alla segreteria, all'ospedale di Chiavari il venerdì dalle 10 alle 12 o telefonare ai numeri 0185 329 379 o 333 11 23 856. Il concerto del trio Vulpanian Friends registrato in occasione della giornata Avo sarà proposto da Telepace al Canale 15 domenica prossima a partire dalle 21.10. Si è rinnovata la collaborazione tra Comune di Genova e Parco dell'Aveto in vista del Natale. L'abete rosso di oltre 17 metri che da qualche giorno fa mostra di 6 in Piazza dei Ferrari proviene infatti dalle foreste del Parco. Alla pianta sistemata nella centralissima piazza se ne è aggiunta una seconda destinata alla zona della Certosa. Si tratta di un abete bianco di 12 metri che è stato posizionato all'inizio di Via Fillac al limite della zona rossa circoscritta a causa del crollo del ponte Morandi. I due alberi di Natale saranno accesi con la tradizionale cerimonia sabato 8 dicembre dalle 17. Accanto agli alberi di Natale come ogni anno sarà esposta una targa che testimonia che le piante provengono dalla foresta del Parco dell'Aveto e che il loro taglio derivi da operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi nell'area protetta. Ora sfondiamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Rebello poi ci ritroviamo con tutte le ultime notizie. Avvenire titola morti alla deriva 15 migranti hanno perso la vita su un barcone senza cibo né acqua per evitare di essere riportati in Libia non avrebbero chiamato i soccorsi la testimonianza di 10 sopravvissuti il cardinale Parolin non lasciamo in strada i richiedenti asilo e nella Caritas italiana il cardinale Francesco Montenegro lascia la Caritas per dedicarsi alla sua diocesi di Agrigento. Ridecapitata la mafia 2.0 e Salvini brucia un blitz 46 RS in Sicilia ma il ministro anticipa un tweet su un'operazione a Torino è piccata la reazione del procuratore Tonino Spataro che dice rischio di danno per le indagini intervista anche all'ex procuratore Giancarlo Caselli dobbiamo sconfiggere la zona grigia poi troviamo la fotonotizia mense per i poveri ridotti i fondi andiamo a vedere all'interno di avvenire fondo alimentare a rischio l'allarme degli enti caritativi Giussani del Banco Alimentare dice bisogni concreti dimenticati Marsico della Caritas non smantellare le reti del territorio Izzi di Sant'Egidio un problema strutturale e veniamo al secolo XIX terzo valico Sala Contotil sindaco di Milano Sala appunto solidale con il presidente della regione Liguria il governo ascolti il nord e il cardinale Bagnasco dice sarebbe suicida non farlo Ponte di Genova restano in corsa cinque progetti sfollati via agli indennizi TAV congelata Toninelli boccia anzi blocca la pubblicazione dei bandi siamo nel nostro territorio ecco la passerella che ha liberato Portofino vediamo appunto nelle pagine interne la passerella di Paraggi è una realtà adesso la provinciale entro Pasqua inaugurata ieri la pedonale realizzata in cinque giorni lavorativi a Natale sarà aperta a tutti con servizio navetta ATP è lunga 120 metri un metro di larghezza 50 moduli da due metri e mezzo utilizzati 250 pannelli di ferro un peso totale di 12 mila chili 400 chili al metro quadrato la portata massima siamo nel Tiguglio centrale diga per figli regione e città metropolitana stringono i tempi pronti altri 700 mila euro polemica in consiglio regionale dopo il passaggio all'ex provincia occorrerà rifare il bando rimasto fermo a 2013 tuona dall'opposizione Luca Garibaldi del PD con il balletto di competenze per aggiornare la gara si spendono altri soldi risponde l'assessore Gian Pedrone la somma era già nel progetto come quota parte della regione per le ultime notizie andiamo in redazione per noi oggi Maurizio Garreffa grazie Cristina un saluto a tutti parliamo della conferenza stampa di questa mattina della CISL area metropolitana sulla questione legata alla mareggiata ma non solo anche al crollo del ponte Morandi una situazione che ha messo in forte disagio numerosi lavoratori molti hanno perso il posto di lavoro molti rischiano di perdere lo servono insomma degli strumenti nuovi a sostegno del reddito perché secondo CISL quelli attuali appunto non basterebbero in questo senso questa mattina durante la conferenza vedete le immagini la CISL ha annunciato di aver chiesto un incontro al prefetto Fiammaspena i problemi legati al maltempo e al Morandi si intrecciano con la carenza di infrastrutture sul territorio durante l'incontro con il prefetto i rappresentanti di CISL parleranno anche della situazione di alcuni progetti ad esempio il tunnel della Fontana Buona il prolungamento di Viale Casman con la realizzazione della rotonda al casello della A12 a Lavagna per tutti questi problemi inoltre sarà organizzata una manifestazione il 18 dicembre alla quale parteciperà il segretario nazionale della categoria Anna Maria Furlan questa mattina ne ha parlato il segretario generale della CISL Genova area metropolitana granara maggiori dettagli sulla giornata del 18 dovrebbero essere diffusi durante la giornata di domani dunque ne parleremo ancora a te Cristina bene grazie ora due notizie di servizio che riguardano Chiavari la prima riguarda i parcheggi anche quest'anno la sosta nelle aree blu di Chiavari sarà a pagamento anche nei festivi durante il mese di dicembre in particolare nei giorni 8, 9, 16, 23 dicembre la sosta nei posteggi blu sarà a pagamento secondo gli orari e le modalità dei giorni festivi con un minimo di 50 centesimi per un'ora di sosta l'altra notizia riguarda un disservizio annunciato per la giornata di domani la vediamo anche sul nostro sito teleradiopace.com a seguito di alcuni interventi che IREN deve effettuare per lo spostamento della rete idrica sarà sospesa l'erogazione in alcune zone della città di Chiavari domani dalle 8.30 alle 17 saranno interessate al temporaneo di servizio piazza San Fron via Piacenza a lato fiume via Entella a lato fiume via Lunguentella via Ri Lunguentella via Le Casman via Bado Gianotto via Ogolini traversa di via Ogolini via Giorgio Canale via Damiano Chiesa via Capitano Orsi via Gastaldi Corso Lavagna e via San Pio nella zona bassa era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione torna questa sera alle 19.15 alle 20.30 e alle 22.45 con Tigullo Oggi grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti